Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha ordinato l'accreditamento di oltre 3 milioni di euro a titolo di anticipazione dei fondi stanziati dalla delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 6 agosto. Tale delibera riconosceva la Regione Molise, infatti lo stato di emergenza dovuto agli eccezionali eventi meteorologici che il 5 e il 6 marzo scorso investirono alla Regione. Tanta soddisfazione da parte della Giunta regionale. La soddisfazione è per il fatto che abbiamo chiesto il riconoscimento della situazione di emergenza venutasi a creare con il maltempo del marzo di quest'anno. Siamo riusciti a definire velocemente gli interventi prioritari. Rispetto ai 6 milioni richiesti al Governo abbiamo avuto riconoscimento degli stessi e già da subito l'anticipo del 50%, quindi di oltre 3 milioni, che significa immediato ristoro per gli interventi che si sono resi necessari a marzo 2015.